Con la caccia a noi si passa la caccia a noi? No, c'è, arrivo, arrivo! Qui siamo una cosa unica, allora venire fuori come individuo è difficile, e allora ognuno viene fuori al suo modo, e quando viene fuori un po' devi combatterla, devi meritare l'individualità sofferente e sofferta. Che era bene stamattina? Perché non mi avevi vinto da dormire da lei. Ma io che sta? Prometti che l'avevi detto sì, Maria! Mamma, ti faccio la domanda! Sì, mamma, ti faccio la domanda! E quando la fai un figlio? Penso che noi, noi, la storia a raccontare, ogni storia di ogni persona sia straordinaria. Io scrivo, ho sempre scritto tanto, perché per me era un modo di sfogare quello che avevo dentro. Non è una cosa che è nel cassetto, questo sogno di poter scrivere un libro. In questi giorni stavamo là a casa, perché fare? Insomma, mi sono messa lì un po' a battere, ho scritto quattro pagine, ho scritto i polini. Poi è sempre così, vanno ogni roba insieme. Sono fattita scrivendo, parlando proprio dell'amore. Dall'amore dei genitori, arrivare all'amore per il lavoro, all'amore della vita. Inizialmente ho scritto alla famiglia che io sto passando da questa fase di distacco, che quest'amore è a volte anche un po' troppo soffomante. Grazie a tutti.